Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a fare un unboxing di Oranda a testa di leone selezionati Allora come potete vedere l'ho preso dall'arca di Zinfabio, ve la consiglio, mi hanno regalato una spugna e del mangime Detto questo purtroppo ci sono stati dei problemi perché una busta si è rotta e quindi ho dovuto mettere subito a posto i pesci Che comunque sono arrivati in forma nonostante l'imprevisto All'inizio ho fatto una piccola quarantena con del blu di medilene e del sale e li ho tenuti così circa un'ora All'inizio erano un po' assopiti ma poi si sono subito ripresi Adesso li prendo in mano e vi faccio vedere le loro colorazioni e sono veramente belli Detto questo dopo circa un'ora li ho potuti mettere subito in vasca, eccoli qui Sono una specie stupenda che io amo e sono esemplari veramente bellissimi Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando se è così mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici Noi ci vediamo, alla prossima!